Niki Giusino, il disturbatore di televisione per la Tormasia, www.niki-giusino.it è sabato 20 aprile 2014 e sta andando in onda il serale di Amici, 13esima edizione, quinta puntata. Allora, come l'altra settimana, anche questo sabato, gli strepitosi Giacchetti e Greggio. Cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti, cliccate mi piace al video, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Salve!